Come la vuoi la tattica? Frontale, entriamo e ci allarghiamo. Sì, ma le persone davanti al commuto non ci devono essere. Sì, ma le persone davanti al commuto. Sì, ma le persone davanti al commuto. 3, 2, 1, azione! Sì, ma le persone davanti al commuto. 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 Sì, ma le persone. Come le persone davanti al commuto. Come le persone davanti al commuto.